Vi rifaccio subito alle parole del Ministro, al suo appello che ha rivolto non solo al Parlamento ma anche al Paese, quando ha detto giustamente che nelle difficoltà un grande Paese si deve comportare con dignità. Sottoscriviamo appieno queste parole. Il problema è che alle sue parole il suo Governo non fa seguire assolutamente degli atti che portino a della dignità. Perché un Paese che fa della dignità e della serietà i rapporti sul piano internazionale non ci mette dei giorni o delle settimane a farsi ridare due cadaveri di due poveri uomini che in maniera straziante sono trattenuti, non si capisce bene il perché, da un'autorità alla quale voi non riuscite minimamente a farvi ascoltare. Questa non è dignità. Non è dignità nemmeno prendere ordini rispetto a decisioni presi da Paesi terzi. Non è dignità prendere ordini da quelle che sono le cancellerie o le amministrazioni di Paesi che hanno interesse in quel territorio, come noi avevamo interesse in quel territorio, ma che per una svendita di politica internazionale in qualche modo abbiamo perso. Non è dignità sentire un Presidente del Consiglio dire davanti a due cadaveri che non dovevano essere lì. Questa è una vergogna, non è dignità. Questa è piena e pura vergogna, soprattutto se si tiene conto che il Presidente del Consiglio è uno degli azionisti di riferimento della stessa società che aveva dato il contratto alla società Bonatti per la quale queste persone lavoravano. Quindi questa non è dignità. Questo è puro cialtronismo. Puro cialtronismo com'è l'atteggiamento che si sta tenendo sul piano internazionale in maniera assolutamente ondivaga rispetto alla decisione che deve prendere questo Paese sullo scenario libico. Sentir dire, sentir dire da lei, Ministro, che l'intervento può essere fatto solo ed esclusivamente in presenza di una Costituzione reale, fattiva, di un Governo unitario, mentre sa benissimo che questo tentativo è fallito più volte e non ha nessuna possibilità di essere realizzato nel breve o nel medio periodo, è come dire noi ce ne laviamo le mani, noi non interveniamo. Un po' come è successo con la caduta di Gheddafi e poi le conseguenze noi le conosciamo benissimo, sia sul piano dei rischi che il nostro Paese corre in termini di sicurezza, sia sul piano del crollo verticale degli interessi economici che sono seguiti ai fatti della destituzione di Gheddafi. Allora, noi rivendichiamo, contrariamente a quello che faceva il collega Scotto, di aver votato, di aver proposto una formulazione che poi è stata assorbita e di aver votato nello scorso novembre e dicembre durante la discussione in Parlamento per quello che riguarda il disegno di legge sull'emissione internazionale e la possibilità di utilizzare corpi speciali in situazioni speciali. Bene, qui siamo in presenza di una situazione altro che se speciale e abbiamo corpi speciali che possiamo utilizzare, ma invece non li stiamo utilizzando, o perlomeno questo è quello che ci è venuto a dire. Ed è una cosa, a nostro avviso, gravissima. Com'è gravissimo, però questo non posso ascrivere direttamente a lei la colpa, del fatto che lei è venuta a dirci molto correttamente, come qualcun altro, qualche suo collega, nello specifico il collega Minniti ha riferito nelle sedi opportune, cioè davanti al Copasir, che, leggo testualmente, non abbiamo pagato nessun riscatto, non è stato pagato nessun riscatto in questo caso. Bene, ci fa piacere che non siano stati gettati dei soldi dei contribuenti, che non sia stata violata una norma di legge che lo impedisce di fatto e soprattutto che non siano stati finanziati dei terroristi o comunque delle bandi armate. C'è un problema che le stesse identiche parole, lei le ha dette qui, qui, in quest'Aula, relativamente alla liberazione delle due vanesse, delle due sciagurate che andavano a giocare, a fare le amiche dei dissidenti rispetto ad Assad. Sa qual è il problema? Che dopo poche settimane dei filmati girati su Al Jazeera e quindi poi girati su tutto il web e visibili da chiunque, non solo hanno mostrato valigie piene di denaro, ma hanno mostrato anche delle stanze dell'Aise, cioè dei nostri servizi per la sicurezza esterna, smettendo di fatto quello che lei ha detto in Parlamento. Ora, io non penso che lei venga qui in maniera scientifica sapendo di mentire, viene qui a mentire al Parlamento sapendo di mentire, ma qualcuno sicuramente le ha mentito. E quindi di questo, oltre che Alcopasir, che svolge già il suo ruolo, e lei ha ricordato correttamente che il mio collega Stucchi oggi è intervenuto e quindi è molto irrituale, ma dà anche la misura della preoccupazione che c'è nelle istituzioni rispetto allo scenario libico. È intervenuto al Senato in risposta alle sue comunicazioni. Penso che sia arrivato anche il momento che lei ci dica chi le ha mentito, ma lo dica qui in questo Parlamento e non lo faccia dire solo e semplicemente da minite all'interno del Copasir. Perché se è vero come è vero, e queste sono riportate da notizie giornalistiche, che a seguito di quella rivelazione, cioè del fatto che effettivamente è stato pagato un riscatto di 13 milioni di dollari per la liberazione di quelle due disgraziate, e sottolineo disgraziate, perché hanno messo in pericolo loro e la sicurezza del Paese e hanno fatto sperperare soldi a questo Paese, a seguito di quella si legge sui siti specializzati che sono state tagliate, lo ricordava anche oggi Franco Becchis in televisione, 88 testi all'interno dell'Aisi. Bene, allora noi vogliamo capire se anche questa volta capiterà la stessa cosa o se magari, anziché tagliare delle teste alla scarica barile, qualcuno si prenderà la responsabilità di dire che c'è un servizio che evidentemente non funziona, perché non ci risulta, e lo ha detto lei, non ci risultano, presenze dei servizi a Sabrata. Ma come? Tutte le volte che vengono rapiti dei nostri connazionali ci muoviamo, facciamo il diavolo a quattro, soprattutto se sono giornalisti, soprattutto se sono di sinistra, poi però per quattro lavoratori di una società che ha un appalto, di una società statale, non ci muoviamo minimamente. Aspettiamo, magari appaltiamo a qualche servizio esterno la possibilità di liberarli, vedendo poi come vanno a finire. Allora, torno a ripeterle, io non sto dando la colpa a lei, io non dico che lei ha mentito sapendo di mentire, ma lei ha riferito delle informazioni che qualcuno le ha riferito, sapendo evidentemente di mentire, oppure da qualcuno che non è in grado di fare il proprio lavoro. E qui partiamo malissimo, perché se noi dobbiamo pensare di fare un intervento militare o un intervento con dei corpi speciali, in uno scenario così delicato come la Libia, se non abbiamo neanche le informazioni reali, esatte, come pensiamo di poterne uscire senza le ossa rotte. Questo è il dato di fatto. Ma l'altra cosa preoccupante, oltre alla mancanza di informazioni che arrivano a lei, magari i servizi ce le hanno, ma non gliele danno, non le danno a lei, non le danno a Renzi. Ricordo che prima dell'attacco del Bardo qualcuno disse, tranquilli, la Tunisia è un Paese assolutamente sicuro, la settimana dopo ci fu l'attacco del Bardo. E anche lì erano informazioni che arrivavano, mi immagino, dai servizi. Allora, quello è un problema. L'altro problema è che non state prendendo nessun tipo di decisione appellandovi al fatto che debba esistere per forza di cose un governo unitario, sapendo che questa cosa non è possibile. Mentre è possibilissimo, perché esistono già tre realtà, e lo ha ricordato anche lei più volte nelle sue apparizioni televisive o comunque nelle sue relazioni con la stampa, tre realtà all'interno della Libia. Esistono tre Libie. Dopo la rimozione violenta di Gheddafi, di fatto la Libia ha tre anime diverse e attorno a queste tre anime in qualche modo si sono riunite queste oltre 1.500 tribù. Allora, se si vuole veramente contrastare l'Isis, visto che, l'ha detto lei adesso, ci sono 200.000 persone in armi. Facciamo che 195.000 siano in qualche modo riconducibili alle tribù e che siano in qualche modo controllabili da queste tre realtà e solo 5.000, come ha detto lei, spero che almeno queste informazioni siano corrette, fanno parte del Daesh. Bene, è una forza enorme. Non c'è bisogno di mandare i 5.000 nostri. Magari possiamo mandare i corpi speciali che in qualche modo organizzano, attrezzano e fanno da coordinamento per il contrasto all'Isis che è alle nostre porte, perché le ricordo che sono poche miglia di distanza con i nostri confini. Però voi non prendete nessun tipo di decisione. Questa è la cosa, secondo noi, veramente drammatica. Quello che interessa è la rapidità di decisione, prendere coscienza del fatto che non si può attendere l'ordine di un Paese terzo per fare i nostri interessi, non si può attendere un qualcosa che si sa benissimo che non si realizzerà mai, cioè il Governo unitario, perlomeno non nel breve periodo, prendere decisioni rapide, perché altrimenti, vedete, già avete sottovalutato i rischi. Se vogliamo dare la migliore risposta possibile al rischio che l'Isis si espanda nei nostri territori, e chiudo, è quello di utilizzare quello strumento che abbiamo insieme, in maniera assolutamente responsabile, inserito nel decreto legge sulle missioni internazionali, è iniziare a mandare i corpi speciali, trattando con tutte e tre le parti che non riusciranno mai a mettersi d'accordo in questo momento. Perché l'unica cosa giusta che ha detto Renzi, ma forse si è sbagliato perché evidentemente non ha bene chiaro il quadro, è che in Libia il tempo sta per scadere. Sta per scadere, lo state facendo scadere voi, perché siete assolutamente immobili come siete assolutamente, lo avete dimostrato, irrelevanti sul piano internazionale. Grazie.